Diventa operativo il piano strutturale della regione Umbria per l'abbattimento delle liste di attesa. Dopo l'intervento straordinario 2023 fa sapere l'ente che ha consentito lo smaltimento delle circa 80.000 prestazioni post-Covid. Il numero delle prestazioni sanitarie da erogare oscilla tra le 40 e le 55.000 unità a seconda del periodo di rilevazione e l'amministrazione regionale ha delineato un piano ordinario che da un lato sia in grado attraverso prestazioni aggiuntive remunerate al personale sanitario pubblico di provvedere interamente alla crescente richiesta dell'utenza e dall'altro batta nuovamente il pregresso grazie all'apporto di strutture convenzionate senza costo per i cittadini. Si tratta di prestazioni che per la quasi metà riguardano utenti senza esenzioni quindi non cronici e fragili verosimilmente riconducibili ai primi accessi. La regione fa sapere anche che dei dati risulta che il pregresso per l'80% composto da richieste differite a 30 e 60 giorni riguarda principalmente esami di gastroenterologia oculistica e dermatologia e solo per il 20% risale al 2023 mentre il restante appartiene all'anno in corso a testimonianza di un recupero reale delle vecchie prestazioni da erogare. Il piano di abbattimento e contenimento delle liste d'attesa diviene operativo dopo un'articolata fase di confronto con medici di medicina generale, farmacisti pubblici e privati, rappresentanti dei medici specialisti, del personale sanitario e non. Credo che sia importante dialogare con tutti, in particolare il SOMAI svolge un ruolo fondamentale nella medicina di prossimità, nella medicina territoriale e io credo che questo lavoro va valorizzato. Ci sono tante persone della specialistica ambulatoriale che non hanno il massimo di ore che potrebbero avere, non morire un po' di carenza di medici e di specialisti. Nel momento in cui vogliamo veramente rivalutare il Servizio Sanitario Nazionale credo che collaborare con questi colleghi e con questi specialisti di alto livello sia fondamentale. Questo è il motivo della mia serata qui, incontrare con piacere tanti colleghi, sentire le loro esigenze e trovare forme per far sì che possano collaborare ancora meglio col SOMAI. Lo specialista ambulatoriale, pur non essendo un pubblico impiego, perché è un convenzionato, eroga pubblico servizio, quindi è un medico a tutti gli effetti dell'SSN. Oggi è un momento per anche magari di confrontarsi, quali sono gli argomenti che magari emergono, se ci sono criticità, situazioni che volete comunque su cui confrontarvi? Sì, quest'oggi racconteremo al Ministro cosa ha fatto il SOMAI nella regione Umbria e sono diversi aspetti importanti. Uno è l'accordo regionale che abbiamo sottoscritto dopo 15 anni con due punti fondamentali. Uno è l'attenzione alle zone disagiate perché dovevano essere attrattive per i medici per garantire l'equità delle cure. L'altro elemento molto importante è delle strategie per governare le liste d'attesa. Le strategie sono sia aumentare le ore agli specialisti ambulatoriali, prevedere orario aggiuntivo, ma anche, sono in via di definizione a livello della regione, le prestazioni di particolare impegno professionale che permettono l'erogazione del secondo livello o possibile, in modo tale che il paziente non giri. Facendo seguito alle ulteriori costanti sollecitazioni da parte della regione per garantire nel miglior modo possibile i collegamenti durante i lavori di potenziamento in corso sulla linea ferroviaria Orte-Falconare, è stata comunicata da Trenitalia una nuova rimodulazione dei servizi per i passeggeri nelle tratte fra Foligni e Terni e Fraterni e Dorte. L'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti si era attivato non appena sono stati pianificati gli indispensabili e importanti interventi sulla linea. È aperto ben prima dell'avvio dei lavori un tavolo di confronto con Trenitalia, con un'interlocuzione costante anche con il coordinamento comitati pendolari impegnando le migliori professionalità inaccettabili, dichiara Trenitalia, le critiche strumentali che non tengono conto non solo dell'assoluta validità dei lavori in fase avanzata di realizzazione dei vantaggi in termini di sicurezza e maggiore funzionalità, del potenziamento dell'intero sistema dei trasporti ferroviari cui la Giunta sta lavorando con risultati, conclude Trenitalia, straordinari in soli quattro anni molto difficili. 7 partner provenienti da cinque paesi europei, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Cipro e Portogallo, sotto il coordinamento di Anci e Umbria con l'obiettivo di valorizzare la diversità e conflitto nella gestione delle risorse umane e della pubblica amministrazione. Questo è il percorso del progetto Impluserve che mira ad una pubblica amministrazione più inclusiva. Questo progetto vede la realizzazione per le pubbliche amministrazioni, in particolare per i manager delle pubbliche amministrazioni, di una formazione rivolta alla valorizzazione della diversità e della gestione dei conflitti per generare ambienti più inclusivi e soprattutto servizi pubblici più inclusivi. È nato da un progetto precedentemente svolto con INA e l'Umbria, Inca CGL Umbria, sempre Anci Umbria, che invece prevedeva la formazione per i dipendenti dei servizi pubblici. Quindi abbiamo voluto completare ed arricchire questa formazione e l'inclusività all'interno delle pubbliche amministrazioni con un progetto europeo rivolto stavolta ai manager. Un momento di intima commozione e partecipazione all'evento Le Nostre Stelle, con cui l'Istituto Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia ha aperto il cartellone di eventi. Maggio Alvolta, ricordando nella giornata internazionale dell'astronomia Pierluigi e Leonardo due suoi studenti recentemente scomparsi. Per l'occasione sono state svelate due opere a muro realizzate dai compagni e dai docenti dell'Istituto alla presenza delle famiglie e dell'intera comunità. La vita che da Barlumi è quella che solo tu scorgi ed è bello credere in questa occasione. Qui davanti al murales che racconta Le Nostre Stelle ha dichiarato la dirigente scolastica Fabiana Cruciani che i corpi celesti si siano commossi di fronte alla bellezza dei versi di Montale e prima ancora di tanti altri poeti abbiano scelto di continuare a brillare oltre la loro stessa sorte. Si può vincere dentro ma anche e soprattutto fuori dal campo. Dopo aver conquistato il campionato e la Supercoppa di Eccellenza, la CF Foligno si è distinta anche nel campo della solidarietà. I dirigenti, con in testa il presidente Paolo Zoppi, hanno infatti voluto donare due poltrone per la chemioterapia al reparto di oncologia dell'ospedale di Foligno. Come ricordato dalla società sui suoi profili social, tutto è nato dalla richiesta scherzosa dello storico tifoso del Foligno, Sante Masci, scomparso il mese scorso dopo aver lottato con la malattia. A Zò compra due poltrone che quelle che ci stanno sono scomode, richiesta subito accolta, così come la società, in collaborazione con il Vasco Fan Club di Foligno, ha donato al reparto di pediatria del San Giovanni Battista, sedie e tavoli per i bambini. Università e motori vanno di pari passo, un'esperienza unica ed esaltante per sei ragazzi ormai prossimi alla laurea in design presso l'Università degli Studi di Perugia. Leone Fondacci, Alice Ricci, Vitiani, Lisa Bizzarri, Adam Igli, Nicola Ferrazzo e Davide Lupini hanno infatti avuto l'opportunità di prendere parte sia alla progettazione che all'assemblaggio dei trofei che Stefano Zuec e Federico Fondacci di Bartoccini Premiazioni Perugia hanno fornito al Gran Premio di Imola. Un palcoscenico di grande prestigio, un'esperienza speciale per i ragazzi che durante il weekend del Gran Premio hanno avuto la possibilità di visitare il paddock, assistere alle prove libere e incontrare i campioni principali protagonisti del circuito. Foto, selfie e immagini da rubare con gli occhi in un dietro le quinte che si porteranno dentro a lungo. Da parte di Bartoccini Premiazioni un ringraziamento a Stefano Zuec per questa esperienza indimenticabile vissuta dai ragazzi con l'augurio in futuro di poter realizzare ancora i sogni di studenti meritevoli e creativi pronti ad impegnarsi con passione e dedizione. Dei, ospitalità, responsabilità e comunità le tre parole chiavi sulle quali poggia il modus operandi degli istituti che aderiscono al progetto. In Senza Zaino Dei rappresenta un tempo prezioso anche per le famiglie delle alunni che si trovano in questa giornata a vivere la scuola tutto tondo insieme ai propri figli e condividere parte di quello che è il vissuto quotidiano dei bambini. Il tema lanciato dalla rete Senza Zaino per tutte le scuole aderenti al modello è stato rompere gli schemi nelle relazioni attraverso laboratori che hanno visto protagonisti i bambini e le loro famiglie. La giornata introdotta dal dirigente Michele Baldassari alla presenza del vice sindaco Tuteri ha visto due momenti di vero spettacolo a partire dal ventrilo con Nicola Pesaresi che ha aperto la mattinata facendo sorridere grandi e piccini per poi dare spazio all'associazione Facciamo Festa Perugia che ha concluso la bellissima mattinata con uno spettacolo magico di bolle di sapone accompagnato dal saluto della mascotte Minnie e Topolino. Tutti i bambini hanno ricevuto una macchina fotografica di carta da custodire durante la giornata per catturare con gli occhi e imprimere nel cuore i momenti più belli di questa festa con lo sguardo già proiettato al prossimo Senza Zaino Day. Un piccolo gesto per sensibilizzare tutti alla conoscenza del morbo di Crohn, malattia autoimmune che colpisce l'apparato intestinale per la quale non esiste ancora una cura definitiva. Domenica 19 maggio nella giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali pennello e vernice in mano Amedeo ha pitturato di viola una panchina del parco di Porta Sant'Angelo a Perugia. In Italia sono 250.000 le persone affette dal morbo di Crohn. A Perugia ancora non viene applicato pienamente il protocollo di aneostico terapeutico assistenziale consigliato dal Ministero della Salute che vuole approcciare la malattia in un'ottica multidisciplinare. Sono ancora i pazienti infatti a dover dialogare con i vari specialisti. La panchina viola vuole essere un modo per far risaltare agli occhi il problema per cercare di rendere più agevole possibile il percorso di cura delle persone malate nella speranza di Amedeo e non solo di trovare una cura definitiva. 48 nelle fasi nazionali del campionato FIGC di quarta categoria. Dopo aver conquistato il pass nelle finali regionali l'Eller ha affrontato prima il Savona perdendo 3-1 poi la corazzata Cagliari vice campione d'Italia in carica. Sul campo i sardi si sono imposti per 7-1 ma i corcianesi hanno venduto cara la pelle. Tanto amaro in bocca per la superga 48 gli spolettini dopo un'ottima gara con tre pali colpiti e sette chiare occasioni da gol hanno ceduto nella partita d'esordio 2-1 al Padova. Riscatto immediato per la superga capace di battere prima il Bologna con un netto 3-0 poi l'Empoli con un perentorio 5-1. La sconfitta contro il Padova però ha finito per costare la qualificazione alla semifinale e guarda un po' conquistare il tricolore alla fine sono stati proprio i Veneti. Scudetto che sarebbe quindi davvero potuto finire in Umbria resta comunque la soddisfazione di aver portato al termine un progetto partito per gioco e diventato un modello da seguire in tutta Italia. Complimenti espressi sia dal presidente della FIGC di CPS Franco Carraro che dal responsabile nazionale Giovanni Sacripante. Il referente regionale Armando Marcucci è già al lavoro per la prossima stagione che vedrà ancora crescere il numero di squadre partecipanti per quanto riguarda il campionato Umbro. Alla stagione 2024-2025 parteciperanno infatti anche Umbertide, Ternana, Olimpiati Russe e Perugia. Nel weekend scorso a Castiglione del Lago a Palazzo della Cornia si sono svolti due nuovi caffè letterari. Luigi Bisignani e Paolo Madron, autori del libro I Potenti al tempo di Giorgia, hanno dato luogo ad un incontro moderato dalla giornalista Riccardo Marioni. Nel volume i due scrittori hanno raccontato la traiettoria politica di Giorgia Meloni, la donna che da giovane militante delle sezioni della destra romana è arrivata fino alla presidenza del Consiglio. Una donna sicuramente che ha fatto epoca, primo perché donna è presidente del Consiglio e poi perché sta facendo un percorso molto complicato con grandissima autorevolezza, soprattutto all'estero. Per adesso sta vincendo in trasferta, forse vincerà anche in Italia. In genere facciamo i libri quando individuiamo qualche personaggio nella politica in particolare che possa dar via a un ciclo. Corrente ci sembrava forse così, ci siamo sbagliati nel senso che purtroppo per lui è stato un ciclo molto breve, però insomma con la Meloni c'era anche, come dire, per tante prime volte, la prima volta di una donna presidente del Consiglio, la prima volta di un partito di destra, considerato di destra e fino a pochi anni fa non esisteva perché è partito nato nel 2012 che diventa il primo partito italiano. Insomma c'era una serie di elementi che ci hanno indotto e spinto a fare. Una vittoria amara, un'ottima prestazione da parte della squadra, forse esattamente quello che volevano i ragazzi nel riscatto rispetto a quella di qualche giorno fa. È stato lì che abbiamo perso la qualificazione perché nel 2-0 ci ha tagliato le gambe, però i ragazzi stasera hanno fatto un'ottima prestazione. Quali sono i maggiori impianti? Se ci sono in tutto il campionato, in quanto riguarda i prestiti di playoff? Per quanto riguarda i playoff sicuramente i due momenti cruciali della doppia sfida, il 2-0 subito e poi nel nostro momento migliore l'errore che ha concesso il pari oggi della gara rese perché l'inerzia era completamente cambiata. Abbiamo sfiorato il raddoppio, l'orre erano bassi e c'è stato un momento della gara dove veramente stavamo spingendo con forza per andare sul doppio vantaggio che sarebbe stato molto importante fino al risultato finale. Quindi il 2-0 sul palline attiva dell'andata e il pareggio regalato stasera ci hanno sicuramente messo in difficoltà. In casa Sir Perugia è ufficiale l'arrivo da Padova del palleggiatore 27enne Francesco Zopellari. Quattro stagioni in due, una in A in Belgio, gli ultimi tre anni in Superliga con la squadra dove è cresciuto nel settore giovanile, appunto Padova. Ed ora la nuova avventura a Perugia. Quando arriva l'opportunità di giocare a Perugia, che è come dire ad un calciatore di andare a giocare nel Real Madrid, arriva un'opportunità che bisogna prendere al volo, ha detto al giocatore, non ci ho pensato più di un secondo e ho subito accettato.